Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla partita con il Materica, abbiamo trovato una squadra determinante, il primo tempo è stato equilibrato, poi abbiamo commesso due errori, poi il primo gol l'ora ha fatto un gran gol, però errori da parte nostra che abbiamo pagato a caro prezzo, con una squadra che comunque ha delle qualità importanti, poi abbiamo trovato un gol con Guanido, un tiro di Amli che potevamo fare gol, però ho provato a cambiare qualcosa, a mettere gente fresca fisicamente, anche cercando un sistema di gioco ultra offensivo, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Adesso guardiamo avanti a prepararci al meglio alla partita con il Carpi. Adesso dobbiamo recuperare e prepararci alla partita con il Carpi prima di Pasqua, cercando di vincere. Mi fa piacere raggiungere questo traguardo con questa maia, dispiace tantissimo per la vittoria, siamo super incazzati per come abbiamo perso, perché comunque è stata una partita, il primo tempo è stata una partita equilibrata, al secondo tempo abbiamo avuto l'occasione di passare in vantaggio, poi abbiamo preso questi due gol evitabili, ripeto dispiace, però siamo stati, l'abbiamo anche riaperta, però siccome quando prendi due gol devi farne sempre uno in più per pareggiare o per vincere la partita, quando vincono comunque sono bravi gli altri, dispiace, noi sicuramente ce l'abbiamo messa tutta, potevamo fare sicuramente di meglio, però fra tre giorni si ricerca un'altra partita fondamentale per noi, perché vincere ci dà un passo in più per raggiungere l'obiettivo.